Parte in città una raccolta fondi a sostegno dei familiari delle vittime del sisma dopo le recenti sentenze che li hanno condannati tra l'altro al pagamento delle spese legali. Un codice IBAN nel quale ognuno potrà fare una donazione anche simbolica. Per questo è scesa in campo l'Associazione L'Aquila per la Vita con il presidente Giorgio Paravano. L'obiettivo non è solo raccogliere 14.000 euro ma dare anche una dimostrazione simbolica di unità, di comunità tra cittadini. Chiunque potrà quindi contribuire con la cifra che vuole. La causale è contributo a spese legali 2024. L'Associazione L'Aquila per la Vita ha aperto un apposito conto. La nostra iniziativa nasce proprio dal sentimento di vicinanza nei confronti di chi ha perso il bene più prezioso, cioè un figlio, una figlia o proprio un proprio caro. Non abbiamo nessuna intenzione di fare polemiche con alcunché. La nostra è un'iniziativa volta soltanto a sostenere le persone che in questa fase, dopo 15 anni, lottano ancora per conoscere un minimo di verità e un po' di serenità.